Cosimo Bianchi della FIDAL nazionale a Isernia per inaugurare il percorso del parco le piane del futuro parco le piane che ha già i suoi rudimenti grazie ai tanti atleti che sono qui a Isernia grazie al comune che progetto è questo della FIDAL questo è un è un progetto che nasce semplicemente per dare delle risposte dalle risposte ai cittadini perché gli studi ci dicono che il 51 per cento degli italiani corre il 70 per cento preferisce correre all'aria aperta nei parchi e il 60 per cento della popolazione ha interesse che un parco pubblico cittadino sia trasformato in un'area sportiva per questo la federazione attraverso questi studi ha capito che c'era l'esigenza di dedicarsi non solo alle medaglie olimpiche ma anche alle persone che corrono che corrono indipendentemente dal risultato e corrono per passione è stato è stato importante l'aiuto tutta l'amministrazione della nuova atletica Isernia e speriamo che appunto questo parco possa essere da modello per tutti gli altri comuni italiani e per supportare lo sport la corsa la corsa che unisce e la corsa che fa bene sono molti comuni italiani che finora hanno aderito a questo progetto oggi abbiamo 22 richieste a livello nazionale quindi insomma la gente ha voglia di stare fuori ha voglia di cose buone di aria buona soprattutto assolutamente sì oggi si preferisce per l'80 per cento la corsa all'aria aperta nel parco la camminata piuttosto che in delle strutture private e chiuse al coperto chiuderanno le palestre in questo modo speriamo di no ma speriamo che aumenti aumentino i cittadini che corrono all'aria aperta che corrono nei parchi e che corrono insieme alle proprie famiglie